Un po' di anni fa, gli studi su Raffaello erano parecchio in fermento, si stavano assediando nuovi dipinti, sentivano altri in base appunto alla studio approfondito sulla figura dell'artista e alcuni studiosi riuscirono a capire che questa in realtà non è nata come un'opera alla fine a se stessa, ma è una sorta di tassello o una sorta di tessera di un puzzle molto più grande, comparsa così sul mercato antiquario dato tanto tempo fa, tanto che è molto valutoso appunto l'artista. Ma quale sarebbe il puzzle, diciamo, lui dovrebbe appartenere a questa parola? E' un'opera purtroppo perduta. In questo pozzetto conservato a Lille in Francia si vede lo studio di una pala d'altare molto molto più grande che doveva raffigurare l'incoronazione di San Nicola di Tumentino. Questa pala d'altare le fonti ce la ricordano a città di Castello nella chiesa di Sant'Agostino e sarebbe la primissima opera realizzata da Raffaello all'età di 17 anni. Un'opera purtroppo perduta perché nel corso, diciamo, di un terremoto avvenuto nella seconda metà del Settecento, un terremoto gravissimo che colpì l'Italia centrale, l'opera andò un po', andò persa, andò distrutta. Però cosa è successo? Che da buoni italiani non si punta via niente e quindi le parti più belle che si sono conservate sono state quadrate e vendute per fransori. Quindi, attraverso tutta una serie di confronti e di studi, gli studiosi andarono a scoprire che la parte con il Dio padre e la Vergine è quella conservata nel Museo di Capodimonte di Napoli. Negli anni Ottanta il Louvre infia quest'ala ad un'asta, questo angelo che sempre parte della composizione e abbiamo poi appunto il nostro angelo di Brescia che per la prima volta furono riuniti proprio una decina di anni fa a Brescia in Santa Giulia nella mostra, anche se non ero, si intitolava da Raffaello Ceruti, comunque aveva un titolo simile, dove per la prima volta i pezzi appartenenti alla stessa tavola sono stati riuniti per la prima volta, quindi è un Raffaello anche importante quello che abbiamo in città anche perché sarebbe la parte della primissima opera realizzata dall'artista quando aveva 17 anni. A Brescia però abbiamo un altro Raffaello che è un'opera però più tarda dell'artista, gli studiosi la trattano all'incirca intorno al 1505-1506 nel periodo in cui il nostro Raffaello si trovava a Firenze. Infatti questo dipinto, soprattutto per quanto riguarda il modellato e l'introspezione psicologica del volto dimostra un'adesione in linguaggio leonardesco. Sono gli anni infatti in cui Leonardo si trova a Firenze e Raffaello è attestato che guarderà molto al pittore fiorentino e in questo fu un acquisto molto problematico da parte di Paolo Tosio che va anche a sottolineare la perseveranza che aveva sul mercato per ottenere queste opere. Entrerà nel 1821, stesso anno dell'angelo, ma le trattative partirono nel 1819, quindi ben tre anni prima. In questo caso un uomo fondamentale è Teodoro Lecchi, grande amico di Paolo Tosio, lo smizzagliamo un po' qua e là, in varie parti d'Italia, per andare a caccia a questi tesori. E a Milano, nella dimora dei Marchesi Mosca di Pesaro, trasferitesi appunto dalle Marche a Milano, vede questo Raffaello, quindi sapendo dell'amore che Paolo Tosio aveva verso questo artista, lo informe immediatamente e partono le trattative. Però i Marchesi sono disposti a cedersi il Raffaello per far soldi, non navigavano sicuramente in buone acque, ma ha fatto che Paolo Tosio compasse anche altre due opere. Una Madonna del Rosario dei Cantarini, che è sempre esposta in Pinacoteca vicino di Raffaello, proprio a testimonianza di come quest'opera sia arrivata insieme al Cristo di Raffaello, e ad una Madonna dei Garofari data sempre a Raffaello. Bene, dopo molte trattative, Paolo Tosio riuscì ad acquistare il Raffaello e per forza di cose anche gli altri due dipinti. Vediamo qui la Madonna dei Garofari. In merito a questo dipinto ci furono fin da subito dubbi sulla paternità dell'artista. Si sapeva già all'inizio dell'Ottocento che Raffaello aveva realizzato diverse coppie di quest'opera e quindi il dubbio che fosse un vero e proprio Raffaello c'è sempre stato. Anche se Paolo Tosio aveva voluto questo dipinto, tanto che nei suoi inventari compare sempre con la voce di Madonna piccola, proprio perché aveva anche una devozione affettiva verso questo dipinto. Un po' di anni fa però i nodi sono venuti al pettile perché alla 19e Galerie di Londra viene fatta una mostra su Raffaello e come potete vedere nel museo della capitale britannica è conservata un'altra Madonna dei Garofari che è praticamente identica a quella presente a Brescia. In realtà però gli studi approfonditi che sono stati fatti sul dipinto in occasione di quella mostra hanno evidenziato che l'opera di Londra è l'originale eseguita dalla mano di Raffaello per tutta una serie di confronti che gli storici dell'arte di solito fanno sul disegno, sui materiali impiegati e via dicendo e con studi fatti sull'opera di Brescia, dato che le opere erano sottoposte ad immagini specifiche proprio per lo studio e la pubblicazione del catalogo, si è arrivati proprio alla definitiva conferma che l'opera di Brescia è in realtà realizzata dalla Bottega, probabilmente da un allievo. La cosa non stupisce anche perché spesso gli artisti realizzavano i disegni sui cartoni e questi cartoni poi circolavano tra le bottiglie e un po' in giro non solo per l'Italia ma anche per l'Europa e quindi non era così raro che un'opera potesse essere copiata anche dallo stesso artista. La cosa interessante è che la Madonna dei Garofali di Londra era stata poi esposta, messa a confronto con la cosiddetta Madonna Benoit di Leonardo proprio per andare un po' a sancire quel confronto e quel riferimento che l'artista di Urbino aveva nei confronti del grande maestro toscano. Come vedete l'impostazione iconografica è praticamente identica con la Madonna messa in tre quarti, il bambino che sembra quasi un po' muoversi e giocare con le mani della madre e soprattutto la scena orientata in una stanza con un'apertura poi verso l'esterno. Ci avviciniamo a quello che è il capitolo forse più importante della pittura bresciana e delle opere presenti in Pinacoteca cioè quelle che risalvono al centocento, periodo che come dicevo prima ha dato vita a grandi artisti tre in primis Moretolo, Marino e Savoldo che hanno fatto grande il nome di Brescia nell'arte. Per introdurre questo periodo ho pensato di mettere tre dipinti di analogo soggetto, quindi vedremo tre attività realizzate da tre artisti diversi. Ma questo serve perché le opere sono tutte racchiuse nel marco di un belicegno dal punto di vista cronologico ma servono proprio per evidenziare le similitudini, cioè quello che gli artisti hanno utilizzato appunto in queste opere e sono delle caratteristiche molto simili. Parto in realtà con un'artista che non è un bresciano perché è Lorenzo Notto che è un bresciano che lavora molto in Lombardia e lavora spesso anche proprio in un contesto che è quello lombardo. Quindi una pittura, come detto, molto più vicina alla realtà. E questo è un dipinto bellissimo che è presente a Brescia sempre grazie a Promotosio che lo acquistò intorno al 1824-1825 dai Conti Paglione di Perugia. Quindi lo acquistò direttamente da loro ma era stato già a sua volta venduto in comparte sul mercato antiquario di Bergamo e sempre grazie a Teodoro Lecchi venne intercettato e quindi acquistato dal nostro Conte Promotosio. è forse una delle attività più belle che la storia dell'arte ha prodotto. Ma cosa possiamo sottolineare di questo dipinto che interessa a noi per andare a contestualizzare i nostri artisti greciani? Innanzitutto, l'immensa presenza della realtà, della quotidianità. Innanzitutto, se osserviamo i due pastori, che in realtà non sembrano i due pastori perché sono abbigliati con amici eleganti e sottolineati alla moda del tempo, sono probabilmente i due committenti, quindi i due esponenti della famiglia Baglione. e questo lo possiamo immaginare proprio anche dalla cuna del volto, della fisionomia. Si tratta di ritratti, si vede come siano accurati, personalizzati e qui siamo con un primo passo verso quella che è la pittura della realtà, cioè rappresentare il vero. Abbiamo poi un gesto molto bello del bambino che sembra giocare con il musetto dell'agnello, che è un gesto di quotidianità, ma che racchiude, però, come quando si vuole, come molto fuori dell'agnello, il singolo della passione di Cristo. Quindi Gesù, bambino, è come se stesse già giocando con quello che sarà poi il suo drammatico futuro. E poi la scena, ambientata in una stalla, in un edificio chiuso, illuminato solo dalla luce crepuscolare che entra dalla finestra, vediamo l'alba aperta, e che mette un po' in penora la figura di Giuseppe, soprattutto del casino, quindi vediamo queste orecchie che compaiono così in maniera magica nella luce crepuscolare. Il rannuncio è un'impostazione che usa, ad esempio, Savoldo, in questa famosa adorazione dei pastori. Qui siamo ancora più dentro quella che è la rappresentazione della realtà, della quotidianità. Innanzitutto Giuseppe, ma soprattutto Maria, sembrano due popolani, due contadini. Non sono due figure caratterizzate da un'aurea di qualcosa di santo, di mistico. Sembrano due persone qualunque, prese proprio così dalla strada. Giuseppe ha addirittura un velo di polvere sullo scarpone. Non si vede in fotografia, ma se andate a vedere il dipinto in piena contesa, fatte attenzione, sembra proprio che ci sia della polvere posata sullo scarpone. Ci sono le assi rotte, che vediamo proprio dietro la gamba di Gesù, quella un po' alzata, le tradi della capanna anche lì, rotte, vediamo i chiodi. Questi pastori un po' assonnati che si affacciano ad osservare questa scena, dominata proprio anche in questo caso da questa luce crepuscolare. E qui abbiamo l'attività di Romanino, ambientata quasi in un turno, non siamo, non abbiamo delle tinte rossastre, sembra quasi al tramonto, dove anche qui lo studio della realtà è visibile, sia anche in questo caso dalle tradizioni, presenti sempre nella parte alta di questa copertura che fa nel quadramento la scena, ma anche nella figura di questi personaggi dietro Giuseppe, personaggi che sembrano presi proprio dalla vita quotidiana. E anche qui Romanino fa degli studi sulla luce molto significativi, adornando la Vergine di questo manto argentato carissimo da vedere nei dipinti del Cinquecento, che si è avventuati a vedere la Vergine di solito con manti azzurri, rosati, mai un manto argentato di questo tipo. Ed era un po' una sorta di must che i pittori bresciani stavano sperimentando al tempo. Savorno, in questa magdalena della National Gallery, per la prima volta sperimenta questi manti argentati che danno questa luminosità e questa veridicità al dipinto, quindi un'opera davvero molto vera e anche innovativa. Ovviamente quando parliamo di pittura nella realtà il ritratto è un tipo di raffigurazione che permetteva studi psicologici molto importanti, come insegna Leonardo da Vinci, che ha rivoluzionato quella che è stata l'arte del ritratto. E i nostri pittori bresciani, Moretto in primis, ma anche Savoldo e Romanino, non avevano nulla da inviare, i pittori fiamminti, altri esperti nella materia del ritratto o altri artisti più noti, proprio perché erano assolutamente capaci di rendere i personaggi ritratti veri. Questa bellissima salomè del Moretto fu anch'essa comprata da Paolo Tosio sul mercato antiquario. Entrò sempre intorno agli anni 20 dell'Ottocento. Paolo Tosio era molto attento sul mercato antiquario anche ad andare a cattare quelli che potevano essere gli artisti bresciani, proprio perché ci teniva particolarmente ad avere anche una collezione di artisti della sua città. E questo è un ritratto molto bello realizzato dall'artista, come potete vedere nella cura dei particolari, soprattutto della conciatura della donna rappresentata, che in realtà è un po' una salomè misteriosa, tanto che alcuni studiosi pensano che in realtà sia una nobile donna rappresentata in veste di salomè, in particolare un riferimento a Tullia d'Aragona, poetessa e cortigiana, rappresentata proprio in veste di salomè, visto questi rapporti purvolenti che aveva soprattutto con i generi maschili. Come sapete, salomè è nota per avere appunto recapitato il Battista, quindi è un dipinto che sembra custodire dei segreti più profondi. E soprattutto è messo in relazione con un altro dipinto realizzato da Moretto che è questo ritratto di gentiluomo, che però alcuni lo vedono in correlazione con la salomè vista prima perché potrebbe essere la figurazione di Bernardo Tasso, padre del famoso torquato con cui Tullia d'Aragona aveva avuto una relazione molto movimentata. E quindi si è ipotizzato insomma che questi tre dipinti potessero essere in un certo senso correlati e in un altro. Anche in questo caso vedete come si tratta di un dipinto molto bello dal punto di vista qualitativo, soprattutto per quanto riguarda la cura delle vesti. A Moretto va anche attribuito però un merito, è il primo artista ad aver realizzato un ritratto figura intera. Questo dipinto meraviglioso purtroppo non si trova benissimo a Londra, alla Licella & Gallery, ma è veramente una sua volta nella storia dell'arte proprio perché da lì altri artisti, come ad esempio Moroni, altro grande artista bergamasco noto per l'artista artistica, ma anche Tiziano, iniziano poi a portare nella storia dell'arte il ritratto figura intera. Siamo abituati sempre a vedere l'evoluzione dell'entrato è stata un po' da quello medievale, visto di profilo, a ritratti poi a mezzo gusto siamo partiti poi con Leonardo quando ha rivoluzionato un po' la tipologia impostando le figure a tre quarti fino ad arrivare poi ad un esito davvero altissimo, merito di un nostro, per così dire, concittario. Come detto, anche Moroni era un grande ritrattista, infatti il nostro Paolo Tosio voleva assolutamente avere opere di questo pittore nella sua collezione, proprio perché era assolutamente in grado di realizzare ricatti di una veridicità assoluta e qui ne ho messi due, questo ritratto di motore e di letterato, che come potete vedere sono assolutamente di qualità noticole. Notate sempre questa attenzione alla realtà con questo inserto naturalistico molto veritiero, molto realistico, con questi ciuffetti d'erba che sembrano spuntare quella dall'architettura dell'inquadramento presente sullo sfondo. E, chiudendo la sezione da ritratto, non si può far vedere forse uno dei dipinti, dei trafici uno, presenti nell'Atena Contentatoso Martirello, che è in Assumatore di Frauto di Samoldo. Un'opera molto bella, anche questa assolutamente addirittura nella realtà, con questo fanciullo un po' malinconico, con questa malinconia che sembra essere accentuata da quest'ombra che gli cade sugli occhi, data dal cappello che porta sul capo. In questa stanza un po' spoglia, con qualche libro appoggiato qua e là, con questa finestrina dove sono appoggiati questi due testi, un'opera che sembra un po' preluio, quello che porta per me molto più avanti questa attenzione, quindi, allo quotidiano e alla realtà. Arriviamo ad un punto cruciale della Pinacoteca Toso Martirello, le grandi pale d'altare, quindi quelle opere che il Comune aveva salvato dalle varie insuppressioni e dalle distruzioni che erano avvenute per l'assesso urbanistico della città. è la sala più grande della Pinacoteca, è una sala immensa dove sono raccolte tutte le grandi pale d'altare più importanti, realizzate soprattutto da Moretto Romanino. È un po' una carrellata che facciamo soffermandoci su alcuni particolari delle varie opere. Questo è un'opera che Romanino ha realizzato nel 1550. Siamo quindi ormai a Romanino tardo, verso la fine della sua carriera. Un'opera che è realizzata per il Comune di San Domenico a Brescia, purtroppo è andato distrutto. Una struttura che non esiste assolutamente più. Ed è un Romanino più classico rispetto a quello che si è abituati a vedere e che avremo modo di conoscere poi nei prossimi incontri. Forse è arrivato dalla committenza religiosa, in particolare Dominicana, che era piuttosto severa nei canoni realizzativi. O forse anche perché è ormai un Romanino stanco, che non ha più bisogno di sperimentare. Un Romanino diverso rispetto a quello che possiamo vedere in questi due freschi strappati che provengono dalla pazzia del talno di Modelli di Sagiano, dove abbiamo la cena in casa del Fariseo sulla sinistra e la cena in Emano sulla destra. Siamo intorno agli anni trenta del Cinquecento. È un Romanino in fuga. A Brescia non ha spazio. Moretto è più apprezzato dalla committenza di un certo livello, dalla committenza ecclesiastica, perché Moretto è un pittore estremamente classico, che sta nei canoni. Romanino viene spesso cacciato nei posti dove si va a rifugiare. A Cremone ha iniziato la decorazione dell'uomo e viene mandato via. Va alla Brescia, però si sente alle strette. Proprio negli anni trenta inizia quella che è la sua migrazione verso l'Ere Lontane. Lavoro alla pazzia di Nodengo. Si sposta poi a Trento, al cristallo del Buon Consiglio, dove anche lì realizzerà una decorazione vastissima, ma spesso panchettato dal vescovo signore della città Bernardo Clesio. Anche perché, insomma, Romanino spesso attacca un po' troppo nelle sue raffigurazioni e quando nella loggia realizza una Lucrezia che sta scappando con se lo scopera, due vescovo vanno in scantescenza perché dice, insomma, è pur sempre una dimora di un vescovo. Quindi, insomma, tutti questi nudi che Romanino dipingeva qua e là non erano particolarmente apprezzati. E poi è Romanino che dopo Trento inizia il suo percorso in Barca Monica, quindi è assolutamente nella fase della sperimentazione. E vedete un po', se osserviamo da vicino il fuori particolare, come si ha la fase in cui Romanino ha dato una pittura molto veloce. Romanino non disegnava, dipingeva direttamente sull'intorno a cofresco e possiamo vedere proprio come certi particolari fisiognomici andavano assolutamente a prendere un maggiore risalto. Il profilo del servitore della CNA MAUS è, secondo me, davvero molto molto bello, proprio assolutamente caratteristico. qui, ad esempio, invece andiamo un'opera di Moretto, lo standard realizzato per la confraternita del Duomo Vecchio sulle reliquie del San De Croci. Un'opera che, come vedete, ha un'impostazione più classica dove è raffigurato San Vostino Vita che sostengono quindi il famoso reliquiario. Qui abbiamo un'altra opera di Moretto, la Paravelli, così chiamata proprio perché è raffigurato San Nicola di Vali che presenta i paragonetti della famiglia Rovelli ed è un dipinto assolutamente molto importante perché abbiamo un cambiamento dal punto di vista dell'impostazione della scena. e qui vediamo il primo confronto, il primo sguardo dell'artista verso quello che offriva la pittura venega. Come potete vedere il dipinto ha strette analogie con quest'opera di Tiziano, la parapesa conservata nella Basilica dei Frani a Venezia. Tiziano, infatti, fa per la prima volta una sperimentazione importantissima. Sposta la Madonna con il bambino dal centro della composizione, di sotto siamo abituati a venerla al centro su un trono un po' rialzato. Sposta quindi l'asse della raffigurazione sulla destra, mette la Madonna con il bambino in una posizione apparentemente decentrata e lascia tutto lo spazio con una diagonale che scende dal capo della Vergine andando verso il basso all'impostazione scenica dei personaggi. Una cosa rivoluzionaria che non si era mai vista prima. e Moretto, che era molto attento a ciò che faceva Tiziano, come sapete già prima di quest'opera, intorno alla prima metà del Cinquecento, lui sperimenterà le lezioni che Tiziano ha dato dell'assunta, della famosa assunta di Sanna, sempre conservata da Basilica dei Frani, che è l'assunta che invece Moretto realizza per il Duomo Vecchio. Quindi è un punto di riferimento costante nella carriera dell'artista. E qui invece avrà un'altra opera di Moretto, un'adorazione dei pastori molto bella, in cui l'artista unisce il linguaggio veneto trasmesso soprattutto dal cromatismo acceso, dal colore sgargianti, vedete le vesti rosse degli angeli, quella della serva che aiuta Maria a sostenere il bambino, piuttosto che le vesti azzurre e gialle degli altri personaggi. Una, quindi, così, modernità verita, contrapposta a quella realtà, adesione alla realtà realismo, presente nella pittura lombarda e brisciana. Se osservate bene questa cesta di panni messa in primo piano, è davvero una nativa morta, se così potremmo definirla, sbaglio uditiva. Roberto Lughi definì questo dipinto di Moretto in particolare, questa natura morta di stracci, un preludio alla pittura di Caravaggio. E' noto che Caravaggio, come detto prima, guardò la pittura normale in particolare a Moretto Romanino, i nostri gresciani, proprio per questo realismo che riuscivano a portare in pittura. Questa è forse una delle opere più belle che Moretto non abbia mai realizzato. E' sicuramente un unico nella storia dell'arte, perché non abbiamo una cosa simile. Nessun artista realizza mai un'iconografia di questo tipo. Questo ecce romo in cui c'è questo gioco di linee diagonali, una composizione assolutamente innovativa come il Cristo seduto su questa scalinata. E' qualcosa di eccezionale, dove in una sorta di rigore compositivo va a contraporsi la tonalità fredda dei grigi utilizzati, dei bianchi, oltre all'intensa psicologia presente sia nella figura di Cristo, ma anche dell'angelo che serve a trattenere un rumo di dolore di fronte a quello che ormai è il destino di Gesù Cristo. Quindi un'opera davvero assolutamente sensazionale. E ancora Moretto con questa pentecoste. Siamo ormai intorno alla metà del Cinquecento inoltrato. Un Moretto che ormai guarda anche le novità della pittura malierista. E soprattutto possiamo vedere come l'architettura presente nello sfondo richiama un po' ad esempio ciò che Giulio Romano aveva fatto a Palazzo Te Amatova. Se avete visitato Palazzo Te, vi ricorderete ad esempio queste architetture che sono un tributo sicuramente all'opera di Giulio Romano. È un Moretto che guarda anche ad esempio ciò che Raffaello aveva fatto nelle stanze matricane. Vedete come i personaggi siano elastici. È un Moretto che conosce Raffaello, che conosce l'Incherangelo su un'opera piena di plasticismo. e questa volta sarà Tiziano a copiare il nostro artista. Non è stato il contrario, ma è un po' un tributo che Tiziano fa al nostro Moretto. L'impostazione, come potete vedere, dell'opera è molto simile, quindi è un chiaro tributo che l'artista ha fatto al nostro pittore. Moretto morirà nel 1554. Inizia quindi un periodo un po' decadente per la cultura bresciana. Moretto morirà Romalino e entrambi, per varie motivazioni, non sono riusciti a lasciare una scuola qualcuno che seguisse il loro linguaggio. Moretto morirà nel 1554.